Quanto può cambiare la vita di una persona in dieci anni? Io dieci anni fa facevo l'operario e guadagnavo circa 900 euro al mese. Ora sono un investitore immobiliare professionista e ho deciso di regalarti tre delle strategie che mi hanno permesso di diventare libero finanziariamente in poco più di due anni. Ti parlerò di asti immobiliari, di trading immobiliare e di cessioni di compromesso. Se vuoi ricevere queste tre strategie, devi semplicemente lasciare la tua migliore email, cliccando qua sotto o sopra, e ti arriveranno immediatamente.